Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Matteo Salvini, il segretario della Lega, fa e scrive un post dove si vede lui con la mascherina in Senato, mascherina bianca, distante dagli altri senatori, cravatta verde e scrive incredibile, sono in Senato ad ascoltare il ministro dell'agricoltura che ha appena chiesto la sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini da far lavorare nei campi, ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per la malattia, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a regolarizzare un esercito di clandestini con tre punti di domanda. Beh certo, la domanda che si fa a Salvini è una domanda che si fanno un po' tutti. Teresa Bellanova, Renziana, ministro dell'agricoltura, dice ci sono 600.000 irregolari che vengono spesso sfruttati in modo inumano. A renderlo noto è il ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova nel corso di un'informativa nell'aula del Senato, riportando l'attenzione sul problema dello sfruttamento dei lavoratori immigrati. Ma attenzione, in Italia ci sono 600.000 irregolari, cioè clandestini, che non dovrebbero essere sul territorio italiano, quindi ci sono ma non dovrebbero esserci, sono clandestini in Italia entrati senza avere le credenziali per entrare, documenti, ricongiungimenti familiari, quindi sono illegali sul territorio italiano. E allora cosa facciamo? Visto che sono illegali, li regolarizziamo, gli diamo alla cittadinanza e li mandiamo a lavorare come schiavi nell'agricoltura, come ai tempi del medioevo o della colonizzazione negli Stati Uniti, perché voi sapete che questo tipo di lavori non li vuole fare più nessuno. Perché? Lavoro faticoso, pagato da fame e quindi nessuno o quasi nessun italiano ha intenzione di andare a piegare la schiena sui campi a raccogliere i pomodori per 20-30 euro al giorno. E quindi l'idea di Teresa Bellanova lascia un po' perplessi, come direbbe Abba Tantuono, più stuputo che perpless, ma lascia un po' perplessi, ma un po' perplessi, perché, attenzione, risolviamo il problema degli immigrati, li regolarizziamo tutti, ma così è un incentivo all'illegalità, perché, attenzione, già abbiamo i porti aperti, l'unico paese che dice che i porti sono chiusi e poi vabbè dai li mettiamo in quarantena su una nave, poi li facciamo entrare questi clandestini, ma chiamandoli sempre naufraghi, richiedenti asilo, che la maggior parte, la stragrande maggioranza sono clandestini che arrivano dal Chad, dal Sudan, dal Congo, quindi la maggior parte non scappano da nessuna guerra, non scappano da nessuna tortura, arrivano in Libia o in Tunisia, punto più vicino all'Italia, per entrare illegalmente. E noi che cosa facciamo? Permettiamo alle ONG, i taxi del mare, di andarli a prendere davanti la Libia, portarli davanti Lampedusa, governo chiuso, decreti sicurezza, no, stanno lì a galleggiare, tanto dicono, lo sanno perfettamente che il nostro governo è un governo farlocco, ma non quello che c'è, qualunque governo ci sia, sono governi di quacquaraquà. Ricordatevi che il fondatore della Open Arms diceva, no, 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 noi non andiamo in Spagna, lì ti mettono in galera, lì ti danno una multa da un milione, no, no, preferisco farmi sequestrare la nave da Matteo Salvini, diceva quello di Open Arms, e dietro questo si capisce tutto, altro che Italia neofascista, il cattivo Salvini, preferiscono Salvini ai loro governanti, perché quelli dicono, quelli non scherzano, ecco, quindi capite che reputano l'Italia, un'Italia farlocca, no, la grande potenza di cartapesta, non c'è dietro niente, no, e quindi la teoria della Bellanova è regolarizzare gli immigrati, no, gli immigrati irregolari devono essere mandati al loro paese, perché sono qui in maniera irregolare, eh ma non ci sono accordi tra i paesi, quindi è impossibile mandarli indietro, va bene, ma la soluzione non è regolarizzare i clandestini, perché sennò questo è un messaggio sbagliato, è un messaggio molto sbagliato, come dire, tu arrivi in Libia, paghi 1500 dollari, che per scafista fa due miglia nautiche, ti porta sull'ONG, il taxi del mare ti porta fino in Italia, non ti preoccupare, tanto ti fanno scendere, tu stai lì tranquillo sulla nave, ti fanno scendere, ti mettono in un centro di accoglienza, poi ti regolarizza il ministro dell'agricoltura e ti manda a lavorare nei campi. Capite che è un incentivo all'illegalità, non si risolve il problema dei clandestini regolarizzandoli, ma immaginatevi un discorso così da un ministro tedesco, spagnolo, dove non scherzano, non ha, non so, un ministro degli Stati Uniti, tutti quelli che arrivano dal centro America, va dai, dagli la cittadinanza degli Stati Uniti, mandiamoli a lavorare nei campi di cotone, ma rendetevi conto di quali proposte. Ovviamente l'agricoltura ha un problema, l'agricoltura ha un problema, che per competere con i prodotti che arrivano dai paesi terzomondisti, chiamiamoli così, dove pagano un euro a due euro al giorno, al giorno, al giorno, devi sottopagare le persone al di sotto di quello che è un minimo. Se tu vuoi pagare un lavoratore agricolo 1.400, 1.500 euro in regola e poi devi pagare i contributi, ti costa come 3.000 euro al mese o no. Quindi il prodotto agricolo è un prodotto povero come guadagno, poverissimo. Quindi economicamente, in una logica economica, non ne vale la candela, nel senso che tenere un'azienda agricola avendo dipendenti da pagare con tutte le tasse 3.000 euro al mese, tasse più stipendio, non regge, non funziona. Quindi non ne vale la candela, devo chiudere l'azienda perché non è renditizia, si perde perché la competizione globale, la globalizzazione dove ci arrivano i prodotti dall'Africa, dall'India, da tutto il mondo dove c'è una retribuzione da terzo mondo, per in Italia competere con i prodotti stranieri devi avere una retribuzione da terzo mondo. E allora l'idea della Bella Nova, prendiamo quelli del terzo mondo e li facciamo lavorare in Italia, così i nostri proprietari terrieri, i nostri latifondisti possono guadagnare, che è giusto, ma è un problema di difficile soluzione perché si può anche dire che gli mandiamo gli italiani, quelli con reddito di cittadinanza, quelli che sono sul divano la mattina alle 10 perché si alzano tardi e sono lì a guardare i programmi di Canale 5 e tu li manderesti, visto che lo Stato già gli passa 500, 600, 700, 800, 1000 euro al mese per far niente, assistenzialismo di Stato, gli arriva una bella telefonata, una lettera, sei chiamato a lavorare nei gambi di godone, devi andare a bisceglie, a raccogliere le olive per 10 ore al giorno, così ti mantengo un reddito di cittadinanza. E allora uno dice, beh, a questo punto non vado a raccogliere le olive a bisceglie, ma sto dicendo un nome a caso, nessuno si offenda, ma mi vado a cercare un lavoro qui vicino casa, magari vado a fare la commessa e il commesso in un negozio, piuttosto che andare a bisceglie a raccogliere le olive per 600 euro al mese. Quindi naturalmente Salvini dice, abbiamo gli italiani disoccupati, attenzione, si dice che con questa crisi ci saranno più o meno più di 3 milioni di disoccupati, oltre, e di nuovi poveri, oltre quelli che già c'erano prima della crisi, 3 milioni, nell'agricoltura ne servono 300 mila, 250 mila, quindi addirittura ci sarebbe più domande di quelle reali, ma è un paese dove le persone non vanno a raccogliere più i pomodori, non ci vanno, non ci vanno. E quindi in Italia arrivano lavoratori stagionali dalla ex Jugoslavia, ad esempio, dagli ex paesi dell'Unione Sovietica, naturalmente col blocco delle frontiere non possono arrivare, e allora la bella nova dice i clandestini, loro devono essere regolarizzati. Ma intanto prendiamo quel milione e 50 mila fruitori del reddito di cittadinanza e gli diciamo, accetti tu di andare a raccogliere i pomodori a barletta? No. Beh, ti tolgo il reddito di cittadinanza. Ah, ma tu dovevi propormi tre lavori. Bene. Ti propongo i pomodori a barletta, le olive a bisceglie e nel Veneto di andare a raccogliere la scarola, la lattuga. Mi rifiuti tutti e tre? Eh, ma è sempre agricoltura. me li rifiuti tutti e tre? Ti tolgo il reddito di cittadinanza. Auf Wiedersehen, goodbye. Intanto proviamo con tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza a vedere se hanno voglia di andare a raccogliere la scarola in Veneto. Magari qualcuno ci va. Cominciamo a vedere quanto l'agricoltura può assorbire di lavoratori che arrivano dall'Italia, diciamo. A questo punto è ovviamente giusto dire prima gli italiani. Non è razzismo. Questo no. Prima i clandestini. Mi sembra un'assurdità. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e possiamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.